Ci siamo? Signori ci vorrebbe un rullo di tancuri, ci vorrebbe un effetto sonoro, ci vorrebbe un qualche cosa ma dobbiamo solo ringraziare chi ha offerto 1900 euro per questa striscia di 9 gruppi dell'arte savonese e non possiamo anche dire arte nazionale e internazionale Eccoci, Giorgio come va? Piance? Potete comunque, abbiamo anche lo stand dove ci sono dolci, lo stand dove potete acquistare maglie, gadget, define the cure e altri stand ma la cosa che mi piace tantissimo oltre a tutta questa iniziativa è questa giostra meravigliosa che gira qui in piazza che è una cosa stupenda, fa tornare un po' bambini Siamo quasi alla fine, oh che peccato, bel taglio e bisogna spostare la piantana Eh sì, la buttiamo in terra la piantana Ecco qua, siamo arrivati agli ultimi due quadrati Lo fate scorrere in giù, teloni o lo lasciate così? Ok Ecco, allora Io vorrei, non vedo, però vorrei sapere se qui presente c'è qualche artista che ha dipinto questa tela E vorrei chiedere, ma solo l'ho visto? Cuvato Ivan Beh, cosa mi devi dire? Vieni per favore Cosa mi devi dire? Rapido e in dolore Mi devi dire la tua partecipazione a questo Ma è stata una manifestazione interessante che ha coinvolto tutti gli artisti della Liguria E nella manifestazione era un quadro nel quadro E oggi vedo, ecco, alcuni già che si prestano appunto a tagliare Alcuni che si prestano ad acquistare Ecco, penso che sia una cosa giusta Ecco, eh Lascio la parola a Cuvato Che dov'è? Ah, scusa Scusa Di cercare, siccome siete già lì da vicino Fai sedere il giovaniotto Piacchieriamo un po', rilassati Eh, bene Io adesso non ho detto, scusa Non ho detto di indicare quali sono i vostri Ma lasciamo lì Eh, la presa Ecco I miei erano lì nei primi Ok Complimenti a chi ha preso, a chi ha acquistato, diciamo, il primo striscione Sì Insomma È una bella cosa Sì, sì, sì Ma devo dire che effettivamente, vederlo tagliare, questo, questo drappo che ha un impatto Sì, mi spiace Meraviglioso Questi colori No, tienilo pure, ascolta Sì Ma volevo chiedere, dipingere, questo è una stoffa tibetana Sì È più difficile o è più facile? No, no, io mi sono trovato bene, poi gli altri non so, a me mi è venuto spontaneo dipingerli Allora, senti, mi aiuti a... Mi dispiace che non ci sono tanti colleghi perché... Io ecco, non ce n'è, a parte tu, ma solo non vedo... Sono un po' spento, sì Ecco, ascolta, cosa facciamo? Andiamo avanti con l'asta Allora, vogliamo ricordare... Cinzia, vieni, vieni, Cinzia, vieni No, non ti faccio parlare Eh? Dai, Cinzia Ricominciamo dal basso? Sì, me l'ha andata... Dai, il primo qua chi è? Sì, ma... Stai facendo un casino? Come si spede? Ma te dovresti continuare a prendere? Ah, proprio faccio, continuo? È una cosa colorata sia nella piazza, nel drappo è una cosa colorata... Graata